di un affidamento di una bambina di tre anni dunque affidamento di un minore farei e partirei da una riflessione clinica che riguarda il nostro lavoro e cioè il come si forma per un individuo la propria identità sessuale quindi ciascuna ciascuno di noi viene al mondo anatomicamente biologicamente come maschio femmina e quello che ci sorprende constatare anche nel lavoro con i pazienti è che un individuo impiega quasi 20 anni a come dire a far propria quell'identità anatomica che poi diventa l'identità sessuale diciamo con l'adolescenza e dopo l'adolescenza questo interviene. Allora la prima riflessione potrebbe partire così da un dato appunto relativo allo sviluppo psichico che accompagna sempre quello biologico e cioè come, che cosa può accadere se i due genitori, chiamiamoli così, sono omosessuali? Si parla tanto delle famiglie omogenitoriali. Ecco la prima notazione che mi viene da fare è come potrà quel bambino o quella bambina come dire, svolgere il proprio processo di identificazione con qualcuno del proprio genere. Ecco questa... Dico questo perché in questo caso si tratta di due persone, due maschi e una bambina. poteva essere addirittura due maschi e un bambino e cioè con il paradosso di formare una cosiddetta famiglia tutte e tre dello stesso sesso o tre maschi o padre, madre e figlio oppure femmine. Madre, madre e figlio. Certo. E figlia. Ma la domanda, scusi se l'interrompo dottore, la domanda proprio è qui che sulla quale la psicanalisi o l'apparato scientifico non ha mai dato risposte chiaro e probabilmente perché non ci sono, ma quali rischi corre? Esiste una letteratura, esiste una statistica che ci dice che un bambino che cresce con due genitori dello stesso sesso ha problemi nello sviluppare la sua inclinazione sessuale? Esiste qualcosa che ci dice questo? No, esistono sicuramente delle ricerche soprattutto in ambito americano e inglese, sono ricerche molto controverse, lo dico senza fare polemica, nel senso che sono ricerche molto spesso sostenute da ambienti relativi al movimento gay, lesbiche, transessuali, bisessuali, i cui dati di ricerca e quindi i cui campioni sono problematici fin dall'inizio. Queste sono alcune obiezioni, altre sono di altro tipo, di altro tipo in che senso? Nel senso che dicono sì, può accadere che un figlio, un bambino adottato da una coppia gay poi diventi egli stesso gay, no? Omosessuale, però questo non farebbe problema per questo tipo di discorso. Perché ad oggi questo accade al 100% in famiglie eterosessuali. Sì, dato che la famiglia è così e evidentemente se allarghiamo un attimo la visuale ci accorgiamo che nella nostra epoca attraversata da un disagio sociale immenso, giovanile e via dicendo, la famiglia è certamente il nucleo da cui diparte una serie di... L'argomentazione naturalmente è molto complessa, molto delicata. Per ora, per ora.